Aurora Ramazzotti, baci hotel fidanzato Goffredo Cerza, sotto lo sguardo perplesso di Tommaso Trussardi esclusivo la figlia di Michelle Unziker si lascia trasportare dietro le quinte. E il marito della showgirl svizzera sembra perplesso. Come mostrano le foto esclusive di oggi Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza non conoscono la parola crisi. Mentre conoscono benissimo le parole amore. Come dimostrano le immagini esclusive del settimanale oggi. Che ha pizzicato i piccioncini scambiarsi bollenti e fusioni dietro le quinte. Sotto lo sguardo decisamente perplesso di Tommaso Trussardi. Dietro le quinte Sanremo è stato anche il festival dell'amore. Se mamma Michelle Unziker ha dichiarato pubblicamente tutta la felicità di aver sposato Tommaso Trussardi, la sua primogenita, Aurora Ramazzotti, nella città dei fiori si è lasciata andare alla e è sommerso di abbracci, baci infervorati e tenerezze il suo inseparabile fidanzato, Goffredo Cerza. Non c'è foto inquadratura della regia del festival, in cui i due piccioncini non siano vicini, sempre impigliati tra braccia e labbra. La coppia, dunque, è apparsa più unita che mai. Un anno d'amore dopo un anno, la tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza non accenna a scemare, tanto che al marito di Michelle, come vedete nelle foto esclusive di oggi, a un certo punto scappa uno sguardo un po' perplesso della serie, non starete esagerando? Del resto che tra Aurora e Goffredo sia amore vero l'ha raccontato lei stessa al nostro giornale quando, per la prima volta, ha parlato dei legami con Goffredo spiegando che sta vivendo il primo grande amore della sua vita. Stesso Hotel Aurora, come mamma Michelle, alloggiava con Goffredo al grande hotel mare di Bordighera. Una vicinanza voluta da entrambe, non solo, logistica, la Ramazzotti non si è persa mai una prova della madre, curiosità, quando ha sentito cantare unico, poi vincitore, tra i giovani, ha subito detto che era il suo preferito, le è stata accanto sera dopo sera, ammirata e ispirata, come si legge dal dolcissimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram sotto a una foto che le ritrae insieme, la tua semplicità, il tuo calore umano, la tua bellezza e non parlo di quella esteriore. Mi rendono sempre più fiera di essere tua figlia. Qui con te in questo giorno speciale. Love you, Cristina Rogue Lady.